ciao ragazze benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ci siamo nuovamente con un episodio dedicato alle vostre simpatiche collezioni di orologi e voi che ce li mostrate insomma diventate protagonisti noi siamo tutti contenti nell'osservarvi mentre ce li spiegate proprio spiegate cercate di essere concisi insomma un pochino fluidi nel parlare cercate di coinvolgerci perché altrimenti se incominciate a balbettare e a perdere tempo anche la nostra concentrazione va a marengo come si suol dire no quindi come partecipare lo sapete video in orizzontale possibilmente evitiamo il video in verticale e poi ci divertiamo guardando gli orologini ora l'orologio del giorno oggi è questo bellissimo omega devil 39 mm quasi di diametro cassa bracciale armadillo con questi mattoncini stupendamente messi uno di fianco all'altro che fanno che creano questa uniforme parete così sbrillucicante a me piace un casino guardante grigio che è uno dei più rari se ne vendono pochi ora uno dice se ne vedono pochi perché ne hanno venduti pochi evidentemente era quello che andava meno penso io però è un orologio che a me piace trovato come fondo del magazzino fatto revisionare nei primi anni 2000 questo qua è un orologio come nuovo nuovo praticamente nuovo sono contento del mio orologino adesso bando i discorsi inutili diamo un'occhiatella ai vostri video barra spaziatrice pronta a subire i colpi del mio indice destro e indice destro pronto ad argeli fuoco alle polveri vai buonasera davide una sera diciamo dilunghiamoci in convenevoli se il canale da da sempre se sardo se sardo diverte ci passo il tempo ti mando questo video da oxford anche se come senti il mio accento non è assolutamente british sono i cagliari lega da tanti anni faccio il bellissimo ravolo del restaurant manager cioè quello dove in realtà vorresti uccidere tutti quanti ma sorridi comunque allora andiamo in ordine sparso abbiamo seiko questo 90 sterline una bomba mi orologio tra i mi orologi preferiti perché comunque per quello che costa è una roba allucinante gli ho messo questo cinturino in pelle perché l'altro l'ho disintegrato cercando di mettere questo abbiamo poi bulova lunar pilot questo lo comprai tanti anni fa infatti ho realizzato stamattina che la batteria è defunta e gli ho messo questo cinturino in tessuto perché l'altro è scomodo e si sgancia quando piego il polso quindi soprattutto lavorando è fastidioso abbiamo ora la batteria la batteria lì e infine guarda è abbandonato è morta infatti uno dei trucchi per non fargli fare la fine del porco come suol dire per non è quella di riporre l'orologio con la corona strata perlomeno non si consuma così tanto come si consumerebbe facendo girare i vari motorini dovete pensare che insomma essendo elettrica la batteria manda un circuito elettrico manda muove i motori elettrici e tutta usura in più veramente in quel caso lì perché corrente che gira motorini che girano consuma la batteria poi te la ritrovi morta poi se è morta da tanto tempo rilascia l'acido perché la batteria è acida lo sappiamo tutti e quindi è una brutta cosa è una brutta cosa easy peasy easy peasy vabbè i miei 2g shock g shock manco lo trovo eccolo qua 2g shock mamma mia ma contrario argento e nero questi la pioppa i miei nipoti come scendo a cagliari bravo perché ne sono già goduti li uso in palestra al massimo mi tengo il nero per andare a fare qualcosa di disastroso che potrebbe essere per esempio quando andrò in romania fra poco è disastroso è pericoloso abbiamo questo che è un regalo di una persona che mamma mia come brutto non è più nella mia vita che non aveva ben capito i miei gusti perché mi fa cagà però nessuno se lo accolla quindi ancora qua questo sarà regalo per il mio fratello mamma mia che a me fa veramente ribrezzo abbiamo seiko questo mi piace tantissimo però sinceramente lo uso poco perché samurai molto mazzoso come diremmo noi a cagliari cioè che pesa lavorando in ristorante soprattutto lavorando anche fisicamente portando piatti eccetera a fine giornata sembra che ti sia masturbato per 15 ore di seguito ma d'altronde questi orologi qua sono dei diver ok quello lì il samurai è un diver sono orologi sportivi che sono stati pensati per un certo tipo di utilizzo no come ad esempio il mio mega simaster 300 anche ieri stavo decidendo quale orologio indossare no in casa perché e l'ho scartato il simaster 300 perché pesante abbastanza scomodo al polso me lo metto quando vado al mare quando vado in giro per d'estate è tutta un'altra roba perché non te ne accorgi se in giro fai nuovi brighi al mare era va benissimo in quel senso lì no invece magari per quando sei in casa o al lavoro un diver pesante non ha senso meglio mettersi è come quando sei in casa ti metti le pantofone no e in casa ti puoi mettere un bel cento un bel orologino che sono il viller vetta da 39 il mio dyna wind con il con il cinturino con il nato è leggero comodo te lo metti lì te lo guardi in casa ci stai bene capito abbiamo l'altro secco uno dei miei preferiti ancora anche se uno dei primi che ho comprato secco mantarrei questo è veramente fighissimo comodissimo lo uso tantissimo mi piace da morire non lo darò per niente al mondo me lo ottengo fisso si star bello bracciale non li ho ancora rimesso cioè gli ho sganciato la clasp questo mi ha dato tantissime soddisfazioni era ai tempi in cui lo comprare l'orologio dei sogni è una bomba cioè il powermatic è una figata funziona ho un altro powermatic questo dell'orologio che attualmente uso un po più di tutti certina certina di sph 200 m bello questo veramente bellissimo per quello che costa credo che siamo 950 sterline una roba del genere lo uso tantissimo niente mi piace veramente tanto un po grosso al polso ma io faccio 105 kg cosa mi è rimasto black bay 58 questo l'ho comprato a rate ad aprile a rate qua nasce la mia prima domanda qua in inghilterra tutto ti viene dato a rate interessi zero quindi la maggior parte degli orologi sopra i 300 pound che ho comprato alcuni li sto pagando per esempio 5 sterline al mese senza interessi cosa ne pensi di questa cosa cioè anche se ora cosa ne penso di questa cosa e non lo so 5 sterline al mese c'è infinita è infinita cosa ne penso che se uno ha la disponibilità economica io c'ho i soldi ce li ho c'ho tanti soldi e questo orologio qua lo comprerei tranquillamente tirandoli fuori tutti di un botto se mi fate le rate a interessi zero posso anche dirti sì vabbè allora faccio le rate cosa mi interessa ma ci starei dentro ugualmente non è che non c'ho i soldi e lo faccio a rate e sono al limite a pagarlo ogni volta no secondo luogo non farei mai le rate di 5 sterline 5 euro quanto ci metto a pagarlo non posso stare col pensiero con il peso perché poi è un peso a certo punto mi trovo subito pensiero cosa me ne frega di stare degli anni e per pagare un orologio con cinque euro al mese non esiste cioè mi dici come come fa come fa paypal l'ho fatto anch'io con paypal l'ho fatto appunto ad esempio ecco dovevo prendere dei biglietti per un concerto due anni fa ma era una roba 60 80 euro 90 ce li avevo i soldi per coprire i biglietti no però paypal mi ha messo la proposta lo paghi in tre mesi a rate zero così ho detto sì va bene cosa mi interessa me li tolgono ogni mese ma li avrei ce li avrei avuti lo stesso i soldi tre mesi poi vai via subito così l'ho fatto ma se mi è se se mi avessero detto quei tre biglietti li paghi in 24 mesi e anche no cosa mi interessa stare lì capito specie poi su un orologio cioè se c'è la disponibilità economica puoi fare anche le rate cioè anche un pochino limitate però se non hai la disponibilità economica se non te lo puoi permettere già di botto non farle le rate per comprare un orologio al momento però te lo danno allo stesso prezzo a rate secondo te ok farlo oppure una cosa stupida perché comunque l'orologio è una cosa in più io ci sto costruendo il mio credit score qui in inghilterra perché pago puntuale il mio credit score aumenta e quindi probabilmente mi daranno in futuro un bellissimo mortgage per comprare una casa che costa troppo per quello che è finale il mio finale sarà facendoti vedere un orologio che io questo è il più importante della mia collezione perché questo purtroppo l'orologio con cui mio padre stava facendo immersione quando è morto questo è rimasto così da quando lui è morto perché ovviamente mia madre non l'ha mai lavato in acqua corrente quindi cioè marcio cioè ti rimane la corona in mano io ho avuto la brillante idea di comprare lo stesso orologio su ebay stesso anno 1988 ma purtroppo il tizio mi ha tirato una sola e il quarzo interno non funziona sono andato in un negozio che aggiusta orologi qua ma anche sto 150 sterlina solo per provare ad aggiustarlo e mi sembra una cifra eccessiva volevo sapere secondo te quanto mi costa cambiare un quartino in italia perché io non ne ho la più pallida idea e se mi conviene aspettare o tentare di aggiustarlo da solo cosa che vedo molto molto ardua perché sono un impedito va bene niente fammi sapere cosa ne pensi delle rate cosa ne pensi dei miei orologini niente di eccezionale ovviamente ma questo abbiamo per ora e ti dirò che mi piacciono praticamente tutti a parte quel bustone che mi regalo la mia ex un bacio un abbraccio continua così sei divertente quando torno la notte dopo degli shift terrificanti mi tieni in compagnia grazie grazie a te ciao ciao cosa ne penso delle rate l'ho già detto te l'ho detto il discorso la prima volta che mi capita è anche un po macabra come cosa però vabbè l'hai detto te non è che l'ho detta io l'orologio con il quale tuo padre è morto pesante come cosa va bene e c'è questo ricordo giustamente hai preso un orologio identico e non funziona tra l'altro io vedo sul quadrante che c'è la s e la q seiko quartz quindi si tratta anche di uno dei primi calibri al quarzo primi della prima della prima ondata del primo decennio dei calibri al quarzo di seiko e dovrebbe essere anche uno di quelli belli da revisionare nel senso di quelli fatti bene di quelli ancora con dei rotismi con delle parti intercambiabili come si deve no quindi non vedo un grosso problema nella revisione 150 sterline io non lo so se sono tanti o sono pochi non te lo so dire anche perché insomma trovare qualcuno che revisione l'orologio e quarto non è da cioè magari ci sono anche persone che si rifiutano che non hanno voglia di cercare ricambi bla 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 150 sterline non lo so però la prima cosa che farei o fare più preventivi no anche neanche in inghilterra ne fai più di uno poi in un secondo luogo li fai anche in italia se tanto ogni tanto viene a cagliari fai anche nella tua regione nota bella isola ci sono degli orologi come si deve mi vengono in mente due o tre sono che comparsi nei nostri video lo zio dell'amica leader di alce nera come si chiamava alce della quella ragazza lo suo zio c'è un orologeria popoli a cagliari poi c'è l'orologiaio di undersea time dell'amico pier paolo cassoni che sempre lì ci sono gli orologi e quindi chiedi anche dei preventivi in italia quando torni in italia valuti poi se hai fatto 30 fai 31 l'hai comprato e speso i soldi per un motivo ben preciso cioè per avere l'orologio funzionante quello che è morto tuo padre ma riparalo ormai sistema tra l'altro anche anche un certo valore storico del 88 è il primo decennio del quarzo nel secondo decennio diciamo la verità il primo decennio di quelli proprio i commerciali perché negli anni settanta erano veramente come anche costosi dai fai così fai più preventivi poi a certo punto metti le mani in tasca cosa c'è le vipere in tasca metti le mani in tasca e fai la revisione prossimo video buongiorno davidi e giorno amici del canale volevo vedere la mia collezione di orologi ma va partendo da questo fortis bello che se una marca ahimè non molto vero conosciuta vero e conosciuta ma poco reclamizzata questo è un orologio degli anni novanta automatico con un movimento età però non mi ricordo quale ed è carino uno dei primi orologi che presi bello sì magari nero sarebbe stato meglio passiamo al secondo secondo orologio un orologio classico khaki field questo amilton khaki field e niente questo qui poi conosciuto insomma certo è anche ricensito tu certo ci piace molto bello mi piace molto bello portare tutti i giorni anche poi passiamo a un altro orologio questo oris big crown con colorazione della cassa bordeaux color vinaccia vinaccia così vinaccia anche questo un orologio molto bello mi piace big crown mi piace a tutti insomma già visto insomma poi passiamo a un omega speed master che ha avuto modo già di commentarlo insomma non ti è piaciuto molto il fatto ci siano troppi numeri però mi ha affascinato come te l'ho già detto prima il discorso del quadrante insomma che molto particolare si c'è una lavorazione si vabbè poi bianco poi passiamo a un altro orologio oggi è questo rolex si vede questo rolex day just 31 mm acciaio oro questo fu il primo orologio che comprei quando ero ragazzo con i risparmi di un po di tempo insomma anche perché insomma costava già l'ora quindi ebbè niente sono molto affezionato anche se magari adesso il la cassa un po piccola 31 però mi piaceva molto il fatto che fosse così nero con questo colore molto bello molto bello 31 però altro orologio piccolo piccolo è questo rolex sempre day just 36 mm questo è in acciaio con la ghiera in oro bianco yes anche questo è molto bello per finire meglio 36 che 31 certo un diver che era un po che che lo cercavo che tutte le collezioni sono ci vuole e per forza e ho trovato questo che mi è piaciuto molto mido tribute ocean star tribute special edition con doppio cinturino eh sì bello assai questo colore c'era sia così che nero ma così ma mi ha affascinato molto di più questo colore c'era così che lo uso d'estate quando vado al mare devo dirti che mi piace molto 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 bello è molto molto bello sì niente per adesso è tutto poi se acquisterò qualcos'altro vi farò sapere certo ora grazie a tutti ciao davide grazie per il canale siamo qui apposta e faccelo sapere cosa cosa dirti niente mi do ocean star tribute tribute mi piace proprio il tribute perché l'osha star normale un po meno un po meno con gli con indici tondi no questo qua con gli indici rettangolari l'ho sempre detto mi piace di più il tribute anche con questo bel bracciale così fatto prim 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 ci piace tanto il day just da 31 mm non lo prendo nemmeno in considerazione perché veramente è inindossabile da 31 mm veramente scompare già a me da 36 però bel topino se ne è preso anche se con un quadrante bianco si fatica a leggere per lo meno qua così poi magari indossare tutti i giorni può essere anche poi lo speed masterone va bene dai e basta orologi orologi per tutti i gusti per tutti i gusti simpatici big crown big crown era bello è bello big crown ci è sempre piaciuto dai sei promosso hai tutti non hai potuto prendere nessuna cioffecca non sei riuscito a prendere nemmeno un triangolino giallo e ne siamo tutti contenti va bene prossimo video ciao davide sono marco da pistoia marco presento la mia piccola collezione vai partiamo dal primo orologio kamasu che mi ha che che mi ha fatto scattare diciamo la scintilla e questo oriente kamasu che dire ormai conosciutissimo ma c'è ho messo questo bracciale giubilì che comodissimo sì e che dire orologio fantastico al sol per la sua fascia di prezzo naturalmente è questo colpevole di tutto sì ma mi sembrava il bracciale un po la questo sono passato a questo mido questo mido multiford cronometer orologio fatto benissimo come sempre la mido qualità prezzo sempre sempre il top no certo calibro certificato cost tanto ore di riserva il classico power matic orologio precisissimo e l'unico difetto che può avere questo orologio è il diametro che è un 42 41.8 poi in realtà nelle misure delle varie recensioni comunque tutto un quadrante così un po occupa al polso però si salva grazie al suo lag lag to lag contenuto e si fa a portare bene o il suo bracciale originale naturalmente c'è il turino ora hai montato questo cinturino in pelle scamosciata per alleggerirlo un po bravo poi dopo questo passiamo su usa al classico dei classici citizen su usa questo quadrante verde bel 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 Sugges Che l'ho preso Solamente per Per il discorso del movimento Dell'ST901 19 Il movimento Meccanico Cronografico Devo dire che sinceramente A me funziona Non scartano neanche tantissimo Una decina di secondi al giorno Ma va bene Però Sono rimasto contento Diciamo è più per collezione Che per Vedere questo movimento Che per il loro John C Che in effetti è una cinesata Insomma Poi dopo di questo Un bel diver Poteva mancare Full loom Che è un loro roso Ormai ce l'hai anche te Ce l'avevi anche te Ce l'avevo anche io perché mi ha stufato Mi ha stufato E poi l'ho venduto L'ho venduto Come dico a settembre E con il proposito Di comprarmelo Nero o blu Ok Lo stesso modello Nero o blu Poi chiaramente Il proposito Si è un attimino Protratto nel tempo Nel senso che Ho tempo fino a questa estate Per prenderlo Per prendere un sostituto E ora L'idea del sostituto Mi sta balenando Però nel Promaster Marine Quelli nuovi da 41 Quelli lì Con il quadrante Dei gradi Dei gradi Probabilmente Prenderò uno di quelli lì Da qui a giugno Dai Da indossare quest'estate Da fare Da fare E mettere in circolo Insieme allo Skin Diver Al mio Oris Diver 65 Insomma Tutti gli orologini Ogni giorno uno Al mare Ci vuole E un citizen Ci vuole al mare Ci vuole Non lo so Penso di prendere quello lì Potrei prendere un altro Promaster di questi scuri Ma non lo so Probabilmente voglio cambiare Provare qualcosa di nuovo Capito Tutto lì Perché se no Sono più iconici questi Che il Marine Per dire Anche se Risentono proprio Dello stile Degli anni 90 Di quando sono nati Del periodo Nel quale sono nati Sì che Niente Da aggiungere No Ci ho messo questo nato Il suo bracciale originale L'ho preso Il cinturino in gomma Tanto il suo bracciale Ormai è conosciuto Che non è di grande qualità Sì che Tanto questo verrà Sempre con il suo nato Con un bel nato Che è il suo Cinturino perfetto Bravo Poi Poi Passiamo A questo Scuba Emento Emento Cacchiscuba 40 mm Molto bello Molto bello Anche questo Rapporto qualità Prezzo Prezzo di secondo polso Ha un prezzo Alla metà Di listino Per parole Perfetto Garanzia Tutto È un bellissimo Roroso Precisissimo Naturalmente Il suo pover Matico 80 Che non sbaglio Un colpo E È un Roroso L'unica Pecca È un poverso Roroso È Se non Diver Però ha solo 10 barre Di impermeabilità Che comunque Bastano Assolutamente A me Bastano Perché Immersione Non le faccio Però ha un Ottimo Rorologio Sono rimasto Molto Soddisfatto Sta cosa Dei 100 metri È un po' Ridondante A un certo punto Anche basta A 100 metri Ci fai quello Che vuoi Il mio Oris Diver 65 Che ha 100 metri Con una vita Io Ci ho fatto Tutta l'estate Al mare Due estati Non gli succede Niente Per quello Che dobbiamo Fare noi È più che Sufficiente Più che Sufficiente Anzi Ho fatto il bagno Anche con Loris Big Crown Pointer Che ha 50 Metri Di impermeabilità C'ha la coronavite Anche lui No Però Te lo danno Per 5 atmosfere E bagnano E ce l'ho fatto Due volte Ce l'ho fatto Non è successo Niente Niente di niente Logico che 200 metri 300 metri 1000 metri Di impermeabilità Ti danno Quella sicurezza In più Nel caso Tu dovessi fare Veramente Delle immersioni Come si deve No Però Nella maggior parte Dei casi Non serve 100 metri Basta Poi passiamo Agli ultimi Questo Longin Toppino Spirit Zulu Time Conosci bene Ho fatto anche La recensione E' assa E' un loso Bello 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 L'ho visto Comprato Appena uscito Questo è Il 42 mm Guarda qua Si vedono Anche dalle immagini Fatte così A Giuggetto Giugiaro Che le finiture Della cassa Sono veramente Superiori Come quelle Del mio spirito Solo tempo Lo spirito Zulu Time Lo vedi I biselli Come lucicano E le satinature Come risaltano Lo vedi Che è fatto bene La cassa Di questa serie Spirit qua Che proprio Ti dà soddisfazione Diciamo Fa il suo Io ho un polso Da 18 Mi calva 42 mm Ho provato Anche il 39 E' uscito Si bello Comodo Però Non so Ognuno sceglie 42 Con un bel quadrante Così Risatta Che il quadrante Certo Che ha dei dettagli Bellissimi Davvero Un orologio Di fascia superiore Ecco Fatto bene Anche se piano piano Ha aumentato Di listino La fascia superiore Ci sta arrivando E Bello 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 E per finire L'ultimo acquisto Cos'è? L'ultima entrata Questo Black Bay Fifty Un bracciale Giubili E questo Un 39 mm Si Molto Molto Portatile Portatile E Ho cambiato Come A te Non piace Ma Il bracciale Perché sono Un amante Di Giubili Che sono Ritengo Sono comodissimo Il suo bracciale Originale L'ho preso Naturalmente Braccialato Però Non è che sono Contrario Cioè mi piace Ci sta bene Bello Bello Però non è il suo Se non è il suo Un orologio Da 3 4 5 mila euro E gli lascio il suo L'hanno progettato così Mi sembra di fargli un torto A cambiare A cambiargli il bracciale Solo perché a me Mi piace di più Il giubili Piuttosto Mi prendo Un orologio Che nasce con il bracciale Il giubili Per togliermi Quello sfizio lì Ma non che lo metto Su tutto 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 Come qua Mettessi il giubili Cioè no Cazzo L'ha fatto col suo bracciale Deve stare col suo bracciale Il giubili Se poi fatto bene Come questo A me piace di più C'è un po' da fare Comunque Contenso Sempre Nella Sua scafola Il suo bracciale Bravo E anche questo È Diciamo Un bellissimo orologio Per me Era tanto Che lo puntavo Ora in quell'ezione Mi manca Un cronografo Che non sia La cinesata E non lo so Pensavo All'Emmington In Dramatic Comunque Ci studierò Un po' Non so Te che mi consigli In una fascia A massimo 3000 euro 4000 Questa fascia qui Un saluto a tutti Ciao A tutti Ciao Ciao Dici ti manca un cronografo Ma a me mi pare Che c'hai tutti i diver Lì Vabbè Lo Zulu Time Però insomma Con la ghiera Così Ma il dress watch Non ce l'hai Consiglio Cosa ti consiglio All'Emmington Tra Amatica Va benissimo Ce l'ho Ce l'ho Mi sa che è uno Di quelli In vendibili Perché non mi viene mai L'idea di sacrificarlo Per comprare qualcos'altro No Uno dice Allora cosa sacrifico Adesso Per In Tra Amatica Non mi viene mai Per la testa Di sacrificarlo Quindi significa che Ha ragione Di rimanere lì E mi sa che ci rimane Per un bel po' Cosa ti consiglierei Io la butterei lì così Cosa ti consiglio Secondo me Un cronografo Zin Un Zin Fanno così belle Che poi li fanno anche sportivi Come ti piace a te Perché vedo che Ti butti sempre Sullo sportivo Non chiedermi quale modello Perché vai lì Scegli te Ce n'è una marea Zin Come solidità Come qualità Come prezzo Siamo nel tuo budget Io direi un Zin Altrimenti 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 L'Ojin ce l'hai già Cosa Un bel cronografino Cosa ci può essere È Loris C'è Loris Diver 65 In versione cronografo Visto che l'ho Mi ha inzionato prima Che ce l'ho Il 65 Quello lì Secondo me È un orologio Su quella fascia di prezzo Lì Che vale la pena Tenere in considerazione Perché è bello Prossimo Ciao Davide Sono stato da Roma Ho 25 anni E voglio mostrarti La mia collezione Vai Questo è il secondo video Che ti mando Il primo risale A qualche anno fa Quando ancora non avevo Chissà che pezzi Diciamo Quindi voglio mostrarti L'attuale stato Della mia collezione Allora Vai Partiamo da Questo Casio Classicissimo Casio Che hanno tutti Io lo uso Per andare al lavoro Sono dieci anni Che ce l'ho E non ho mai cambiato La batteria Batteria Assurdo Prima o poi Attento Questo Questo È un Seiko Presage Coctel Presage Ci piace Quest'altro Casio Questo mi è stato regalato Da mio padre L'anno scorso A Natale Un quarzo Un quarzo Lo indosso tanto Diciamo che È simpatico È simpatico Simpatico Poi Questo damante Un rocino Tutto Perché dovete spendere I soldi In questi orologi È una finta È un giocattolo Mi chissà Quali orologi Non lavorando E nulla Non lo indosso più Ormai Ma buttalo via Ovviamente al quarzo È certo Poi Comandischi Questo Me lo ha portato Mio nonno Dalla Russia Come souvenir È simpatico Mi ha aggiunto Questo cinturino nato Che riprende un po' Le sfere La ghiera E il quadrante Brutto il quadrante Poi Siga Il 1963 Questo È un orologio Che mi piace molto Purtroppo però L'anno scorso Sempre sotto il periodo Natalizio Mi è caduto E si è rotto L'asse del bilanciero Ho portato I miei orologiai Di fiducia Ma purtroppo I pezzi di ricambio Non si trovano E quindi Dovrei far cambiare L'intero movimento Ma costa quasi più Dell'orologio Probabilmente Lo terrò così Ma Ora che i pezzi di ricambio Non si trovano Io non lo so Sì Dipende anche Da quanta voglia C'ha un orologiaio Di mettersi lì E cercarli Perché insomma Boh Non lo so Probabilmente Su Aliexpress Che scrivi E te lo mandano Cioè Ci sono I pezzi di ricambio O su ebay Uno Da cannibalizzare Cioè Un orologiaio Cosa farebbe Dice Vabbè Non c'è niente Dell'ST19 Del sigle ST19 Cosa facciamo Altrimenti Investo Compra un calibro Da cannibalizzare Lo compra Non funzionante Ci prende Il bilanciere Intero Perché L'asse Quello che è Lo mette Nel costo nuovo E te lo dà Magari Non ci guadagna Quello che ci deve guadagnare Però C'ha lì Un calibro Da parte Con i pezzi di ricambio Da utilizzare La prossima volta Tranne L'asse Il bilanciere Chiaramente È così che funzionerebbe Ora te Senti un orologiaio Di fiducia Ne sentirei anche Uno Due Tre Quattro Come sempre Come ho consigliato prima Cioè Fatemi un ventaglio Di Di opzioni Perché non è sempre Orocolato Quello che dice Una persona Mi dispiace molto Inoltre Ci avevo albinato Questo cinturino Che secondo me Ci stava veramente bene Poi Seiko Belmatic Sveglierino Questo l'ho preso Recentemente Ha questo bellissimo Bracciale Stelux Molto particolare Ovviamente Penso sia più difficile Trovarlo in questa configurazione Rispetto agli altri bracciali Ci sta L'orevo Tonemente carino Si Promosso questo Bravo Poi Vagari Vagari G-Matic Acqua Semplicissimo Questo è un orologino Da poche pretese 100 euro Per me Abbia a 100 metri Ha la corona A pressione Credo che questo Forse l'hai anche Ricensito Si Si E Un bell'orologio Secondo me Si Fai su Poi Anche questo Ho recensito Citizen C7 Anche questo Questo anche Hai recensito Esatto Questo a differenza Di quello che hai recensito tu Ha il fermo macchina Si Che c'è A volte Vedo anche nei commenti Le persone Non solo su Iosa Quello Quei quadrante Di quel colore Ce l'ha Quell'altro No Vanno a caso Vanno a caso Vanno a caso Non è che il quadrante Ma anche come A livello temporale Come orizzonte temporale Non è che dopo un certo periodo Poi sono tutti Quei fermo macchina Sono usciti Così Cos'ha E Si va un po' a caso Capito Poi non è che sia tutto questo Necessario Il fermo macchina Se ti capita bene Se no Serve per Per voler Sincronizzare L'orologio Fermi la lancetta Dei secondi Sul 12 Lo sincronizzi Con quello Elettronico Di qualsiasi Segnale orario E poi gli dai la via Così è sincronizzato A secondo Ma altrimenti Non lo sincronizzi A secondo E lo sincronizzi Con un po' di differenza Non cambia nulla Dai E oltretutto È stato un regalo Per i miei 25 anni Quest'anno Bravo Sempre della mia ragazza Diciamo che ci siamo regalati Gli orologi Quest'anno Bravi Poi Tisso PRX 35 Tornando al disco 65 mm Che non sono Praticamente Prettamente Da donna Anzi Io l'ho preso 75 Proprio perché Ha un polso Non molto grande E di conseguenza L'ho preferito così Ho aspettato Che uscisse così Con il Powermatic 80 Perché provando il 40 Era veramente enorme Questo è veramente Un orologio Stupendo Secondo me Perché gli orologi Con i bracciali Integrato Solitamente Vestono Danno un aspetto Maggiore al polso Io stesso Ho recensito Il PRX da 40 L'ho provato E secondo me Addirittura Era Non lo vedevo male Al polso Sul mio da 19 Capito 40 Perché si allarga C'è tutto questo acciaio Che fa molta presenza Al polso Quindi Se dice Più piccolo Del mio In tutti i sensi Va bene Perché ho preso 35 Veramente molto bene So che tu Ti sei un po' stufato Dei braccialati Sì Cioè Dei olologi Con bracciale integrato Però Un po' Un po' Credo che sia Veramente bello Bello sì Questo quadrante verde È tanta roba Tanta roba 1,2,b Poi Poi Cronomat Ovviamente Questo non è Il suo Cinturino originale Eh già E diciamo che forse Non ci sta nemmeno Molto bene E questo L'ho acquistato Qualche mese fa Ora no Anzi Questo qua Gli assomiglia A quello originale Che C'ha le maglie I segmenti centrali Inclinati Gli assomiglia Poi c'è il bracciale Che quello È un altro discorso Detto anche a cartucera Per i poveri Che è meglio Però io Ci vedrei Non ce lo metterei Per forza Un bracciale Su questo Cronomat Gli sta bene Un cinturino Come si deve Glielo fai fare Oltre a compri Con pochi soldi Vanno bene anche quelli Bello spesso Possibilmente Con le impunture È la sua morte La morte è sua È sua morte Con cinturino di pelle E fibra originale Un orologio veramente bello Molto bello Come dici tu Anzi come dicono Gli amici del canale Poi Omega Seamaster 300 Questo è un esemplare Del 99 Mi è stato regalato Da un familiare Quindi lo tengo Con molta cura Accidenti Che bel regalo È stato revisionato Una sola volta L'anno scorso Da me Basta A posto È fatto bene L'ho fatto revisionare io Perché Non avevamo fatto una revisione In più di vent'anni E con tutto ciò A parte la lubrificazione secca Perdevo un secondo Questo ovviamente È La certificazione cronometrica Quindi È molto preciso Ah sì Tra l'altro Non è un coassiale È pre-coaxial Quindi dovrebbe montare Un ETA 2892 Se non erro Sì 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 Orologio veramente bello Un 99 sì E poi Ultima Acquisizione Ma non meno importante Top Rolex Dejusted 36 L'ultima referenza Bello Questo mi è arrivato proprio qualche giorno fa Lo trovo spettacolare Eh sì È zaccato Non ho preso il 41 Sempre per il discorso Certo Delle dimensioni del polso Io ho un polso da 17 Scarso Quindi Qualsiasi orologio Sopra i 40 Mi mette in difficoltà A meno che non sia Un diver Infatti per esempio questo È Ovviamente molto impegnativo Almeno a mio gusto Ah certo E nulla Questa è la mia collezione Bravo E Volevo Farti una domanda A me Che cosa prenderesti Tu da un King Sego E Un Rado Golden Horse Ciao ciao A tutti al canale Ciao ciao Tanto complimenti per la collezione Perché 25 anni 26 quelli che hai Mamma mia Ti sei Portato Cioè Sei cresciuto molto A vedere no Gli orologini Che hai preso Che insomma A parte La cioffecca Poi gli altri Sono tutti validi Anche se economici Eh ti sei preso Dei belli orologi Bello anche quel Seamaster La 300 Del 99 Nel 99 C'erano Gli eta Omega li chiamava Omega 1012 105 Non me lo ricordo Però era Eta 2892 E giustamente Hai fatto bene A fargli fare la revisione Tanto di cappello Perché 99 2023 24 anni Sto qua Degli primi anni 2000 Gli ho fatto affare Anch'io L'anno scorso Due anni fa Cioè Almeno metti un punto Parti da lì Sai no Truc Nel 2023 Gli ho fatto fare La revisione Ora Da qui in poi Contiamo Guardiamo Monitoriamo Te lo puoi godere un po' Anche solamente Per il fatto Dell'impermeabilità Hai fatto bene Cosa Cosa mi hai chiesto Alla fine Il King Seiko Rado Golden Horse No lo so Guarda Me l'hanno già fatta Questa domanda Mi sembrano le domande Risposte Sinceramente Non lo so Mi piacciono tutti e due Ma veramente Tanto Golden Horse Sono due stili Un po' Differenti Molto più Spigoloso Il King Seiko Che poi ti prenderesti Quello da 37 Prenderesti Il King Seiko Molto più Tondeggiante Dolce Il Rado Cosa prenderei Guarda Non lo so Il King Seiko Io ti dico di prendere Il King Seiko Da 37 Millimetri Ma Mi piace Mi piace King Seiko Poi fai te Poi scegli te E io ti dico cosa Dove buttarti Prossimo Ciao Davide Ciao Ciao Sono qua oggi Con mio figlio Ti vogliamo far vedere Qualche nostro Pezzo da collezione Oh si Sono contento Che c'è anche un bimbo Bravi Un bel video In coppia Qua la tovaglia Qua quella tovaglia Si sale di rivello Ragazzi Questo amico del canale Ci ha messo a disposizione Un panno Della Audemars Piguet Audemars Piguet Lì Proprio in bella vista Come dire Qua Si parte con i pezzi grossi Mo ce li devi far vedere Però i pezzi grossi E non voglio vedere Dei pagani design Che imitano Audemars Piguet Perché se no Eh È una collezione modesta Però sai Mi ha appena fatto Dieci anni E me lo voglio Tirare dentro Allora Partiamo con gli sportivi Vai Allora abbiamo Questa collezione Di Nike Nike Che usiamo Quando andiamo In palestra Uno Poi ho questo E' a rovesto I famosi orologi A batteria A batteria A batteria Cose semplici Però carine Ah si Che danno Diciamo Nel loro perché Vedi Sembrano dei transformer Usiamo per far palestra Mio figlio gioca a calcio Sono interessanti Ne altri Ok So che tu ha degli orologi A batteria A batteria E noi te li vogliamo far vedere Bravo Poi Passiamo a qualcosa Di un po' più interessante Questo è di mio figlio Io ne ho due C'è anche quello rosso È il famoso Però è a riparare Abbiamo il Moowatch C'è sia questo qua azzurro Che anche quello rosso Però è a riparare È a riparare Come è a riparare Cioè il Moosewatch Che è uscito ieri È già a riparare Cosa è questa storia qua Cosa ne avete fatto Ne avete abusato Oppure c'era un difetto Di fabbrica Ma Non si capisce Bravo Ecco Ecco Questi orologi qua Sono proprio Il target perfetto E i bambini Per i bambini Sono orologi per i bambini Sì Proprio te che stai guardando Adesso che dici Non è vero Il mio Moosewatch Io lo indosso Perché È per i bambini È un giocattolo Va bene Gli abbiamo messo Il cinturino in cauciù Vado a prenderlo Un po' più portabile Va Perfetto Adesso passiamo A pezzi un po' più importanti Allora Partiamo con No Questo è di mio figlio È un Cartier Solo Ronde Misura 40-41 Mi pare Completo C'è tuo figlio C'è un Cartier Orologio Che gli è stato regalato Dallo suo nonno E Mai usato ovviamente Porta ancora le pellicole interne Lo userà quando è un po' più grande Vero Sì Perfetto Poi abbiamo Questo Santos 100 Minchia Misura media Anche questo completo Con scatola garanzia Tutto full set Questo è mio Lo uso Ogni tanto Pograffiatello Perfetto Poi Andiamo avanti Andiamo avanti Questo è di mio figlio Porta ancora parziali pellicole Parliamo di Ma come il tuo figlio IVC Questo è l'ultima versione Quello che monta il famoso movimento di manifattura Ma il tuo figlio Della IVC Ed è sempre di mio figlio Lo utilizzerà lui quando è un po' più grande Perché C'è una bella misura IVC è sempre Un bello orologio Ma cos'è questa storia qua Che tuo figlio C'è gli IVC e i cartier Cioè Ma che c'ha Quattro anni Quanti anni ha? Dieci, nove E lì Con gli IVC e i cartier Che io A nove anni Con le macchinine Giocavo Ma Vabbè Sono nuovo Mai usato Porta ancora Vedi i parziali pellicole Vabbè Ciao poveri Andiamo avanti Poi abbiamo questo blu Di mio papà Ah Un blu Oro rosa Movimento Dovrebbe essere sellita Se Credo Ne sei più tu di me Completo Scatola Garanzia L'ho acquistato 3-4 anni fa Orologi che uso Veramente poco Sì vabbè Te ne sei più di me Questo qua Così è il cronografo Non lo so se è sellita Fanno anche il loro Calibro di manufattura Ma te ne sei più di me Ma cavoli Ma c'è un orologio Da migliaia di euro E non sai nemmeno Che calibro c'è dentro Un minimo Ora mi altero Poi dopo Un minimo Di informazione E se anche tu Non fossi informato Stai a fare il video Dici cavolo Prima di fare il video Fammi informare Non fanno fare la figura Di melma A dirgli che Non so che calibro c'è dentro E invece non sai Che calibro c'è dentro Non lo so nemmeno io Non sono molto interessato Agli ublù Però Tutto bene Spero vi ho fatto vedere Un bel pezzo Poi Passiamo a orologi Un po' più grandi Diciamo un po' più particolari Andiamo Dimentichiamo Diciamo Fascia media Alziamo un po' il livello Vai Questo è di mio figlio Odemar Piguet Oro giallo Misura 30-30 mm Classico orologio Da ragazzino Ma come da ragazzino È una misura Per un polso Chiaramente O lady O da bambino Sì Lui ha Appena fatto Dieci anni E gli avevo acquistato Questo Così Con movimento automatico Senza lancetta dei secondi Orologio del fustino Ne abbiamo un altro Un altro Sempre Odemar Piguet Iguale a quello di prima Questa versione Per cui l'accia è oro Sempre di mio figlio Ok Automatico Completo Con documenti Anche questo Diciamo che Io sono l'appassionato De De Mar Piguet E poi mi sono tirato dentro Anche lui Eh sì Un orologio molto molto particolare Di sua spontanea volontà Misura sempre 30-31 Certo Automatico Automatico Poi Vi faccio vedere questo Che so che è un orologio Che a te piace E non piace Questo è un Frank Müller Top Completo di scatola e garanzia È un quadrante blu Blu cobalto È la famosa referenza Allora è un 78-50 Come misura Referenza Stato a 50 Che è una misura Medio-grande Con cronografo Ha tre contatori Vedi Uno Due Però è praticamente Tre fuse orari diversi Era proprio una caratteristica Del Frank Müller Il famoso Crono bunker Che era la versione successiva Al master bunker Poi passiamo a quello dopo Ti faccio vedere un altro pezzo Molto particolare Io ne ho visti pochi in vita mia Ma io ce l'ho Sempre Frank Müller Top Abbiamo Oro rosa Braccialato Questi sono orologi Che poi un domani Resteranno a mio figlio Per ora li tengo io Il suo figlio Ok È un orologio molto di classe Molto particolare Un solo tempo Dovrebbe essere un movimento ETA Questo Che Frank Müller Poi lui Si ci sta Rimaneggiava Che è completo Con scatola garanzia Un orologio molto importante Ok Ok Adesso ti faccio vedere Un altro pezzo Molto molto particolare Che è sempre stato Il diretto concorrente Dello De Marpighe Crono Da 39 Gonfia Questo è Vacheron Constantin Referenza 49 150 Famoso Dial Asimmetrico Nero Mamma mia bello Con un bracciale Che è a dir poco spettacolare Perché ricorda Vedi la La mezza croce di Malta Yes Grandata È un pezzo fantastico Molto molto bello Al polso Simpatico Misura a 41 mm Adesso un po' che non lo uso Ma Questo è sempre stato Il diretto concorrente Del Royal Oak Da 39 Eh certo Tac Poi Saliamo leggermente Di livello Ti faccio vedere un pezzo Che è più unico Che è raro Porco Giuda Allora Patek Philippe Oro bianco Questo non esiste in acciaio Esiste solo in metallo nobile Oro bianco Oro giallo Oro rosa E platino Questo è oro bianco Referenza 5130G Grey Vuol dire oro grigio Orologio completo di tutto Di scatola Garanzia Questo è il famoso Monta movimento Con micro rotore sul retro Patek Philippe Il dial Il dial ha praticamente Questo disco grigio Che dimostra la coività Perché la versione di solo oro bianco La parte centrale qui È praticamente Chiara Invece questo qua grigio È per questo motivo Poi Poi Ti faccio vedere un altro pezzo Questo qui È mio Conffia Visto che dicevo prima Che il Vacheron è diretto concorrente Di Odemar Piguet 39 Full gold Questo è un pezzo molto bello Mamma mia È il 25860 BA Kasparov Monta il quadrante Con la petite tapisserie Petite tapisserie Codice 01 Eh grazie Te le voto Tutto braccialato oro giallo Completo di scatola garanzia Postorta la Kraspla Orologio che io adoro Secondo me forse Uno dei più belli orologi Che io ho Ti farò vedere Solo una parte Chiaramente Della nostra collezione Perché sono troppi E il video diventa troppo lungo Ah ok ok Orologio molto molto bello Molto molto bello Mamma mia Che dal vero Veramente è spettacolare E poi per ultimo Ti faccio vedere L'ultimo acquisto Di mio figlio Che chiaramente Gli ho regalato io Per il mio compleanno Per il suo compleanno Un Rolex Ci specifica subito Te lo faccio vedere Piano piano Perché probabilmente È l'orologio Secondo noi Più bello che esiste Superiore a qualsiasi Pateca Qualsiasi cosa De Mar Piguet Referenza 15202 Oro rosa Dial blu Completo di scatola Garanzia Un orologio pazzesco Lo utilizzerà mio figlio Quando avrà 18 anni Da allora Lo teniamo qui In cassetta In banca E siamo tranquilli Che stai qui Ogni tanto Magari ci faccio Un giro io Niente Davide Ti ringraziamo Prossima volta Ciao Ti ringraziamo Ti salutiamo La prossima volta Ti facciamo vedere Qualche altro pezzo Di collezione Qualche altro patec Diciamo Altre cose importanti Ma si Un saluto Ciao Davide Ciao Da me e da mio figlio Ci vediamo presto Ciao 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 piccolo principe Piccolo sultano Devo riesumare Una delle gag Che ho fatto in passato Perché qua ragazzi Per forza Un goccino mi ci vuole Per riprendermi Perché Che orologi abbiamo visto Tutti orologi Da decine e decine Di migliaia di euro Non ci stanno Nello schermo Tutti Le banconote Una sopra l'altra E anche di qualità A parte Filippo Demor Piguet Vachero Constantin Poi full gold Solamente il prezzo Dell'oro Del metallo E il bambino Questo qua è di mio figlio Sì no Poi quando sono 18 anni Se lo mette lui E cresce Cresce no Nell'attesa Di Ciao poveri Ciao poveri Proprio ci sta qua A tutti quelli Che s'hanno guardato No Io E io qua che mi Che mi Beo Con il mio Mega devil Gli altri Va bene Dai complimenti Per la Per la trasmissione Come suol dire D'altronde Poi il resto Dei Patec Me li farei vedere La prossima volta Perché non ci stavano Tutti Facciamo due o tre Due o tre puntate Facciamo tutti questi Rologioni qua Va bene Possiamo chiuderla qua Diciamo Anche smettere di fare Video E fare Andiamo Andiamo a far vedere I citizen Vabbè Boh Mi sembra di aver detto tutto Vi ringrazio Per essere arrivati Fino qua E vi ricordo Gli appuntamenti Fissi Che come sempre Sono Quando voglio Io Il più spesso Possibile Qui su YouTube Love Gli appuntamenti E vi ricordo E vi ricordo E vi ricordo E vi ricordo